E' arrivata anche in Sicilia la nuova variante del Covid denominata Omicron 3. Due sono i casi che sono stati diagnosticati nell'isola, in particolare nel Palermitano, una in città e l'altra a Partinico. Nell'isola i contagi, quelli di ieri erano 3.747, sono ancora in gran parte però legati alla Omicron 2, che è meno pericolosa ma certamente più contagiosa rispetto alle precedenti forme. I casi Omicron 3 a Palermo sono stati sequenziati dal Centro Regionale per la Qualità dei Laboratori. I sintomi più comuni con cui si presenta la Omicron 3 sono più leggeri tra quelli che abbiamo imparato a conoscere finora, ma sono sostanzialmente gli stessi. L'interessamento di naso e gole è maggiore rispetto a quello dei polmoni e questa è una buona notizia. Un altro sintomo da sempre indicativo del contagio è stata considerata la perdita di olfatto e gusto, che con questa variante sembra essere attenuata. Calati anche i ricoveri in ospedale, proprio perché gli organi interni vengono meno colpiti, ma restano comunque i danni alle cellule dei polmoni. Il calo dei casi è l'attenuazione dei sintomi e in ogni caso legata anche alla maggiore diffusione del vaccino anti-Covid. La variante però resiste sulle superfici più a lungo rispetto al virus SARS-CoV-2 originario e ciò potrebbe facilitare la trasmissione dell'infezione attraverso il contatto con le superfici o altri oggetti, i cosiddetti vomiti. E' quanto sostiene uno studio condotto dalla Università of Hong Kong, pubblicato su BioRixiv, piattaforma su cui vengono rese disponibili ricerche prima della valutazione da parte della comunità scientifica. I ricercatori hanno verificato la stabilità del virus su diverse superfici, sia lisce sia porose. In tutti i casi Omicron si è dimostrata più resistente del virus CD1. Sull'acciaio inossidabile due giorni dopo l'inizio dell'esperimento rimaneva attivo solo lo 0,09% delle particelle virali del ceppo originario contro il 14,18% di Omicron. Quest'ultima dopo sette giorni aveva ancora quasi il 2% delle particelle di virus attive. Sulla plastica dopo due giorni rimaneva attiva solo lo 0,14% del virus originario contro l'8,47% di Omicron. Sul vetro lo 0,1% del virus CD1 contro il 6,13% di Omicron. Risultati meno evidenti sono stati osservati dalle superfici porose, sulle quali il virus si degrada molto velocemente. Dunque con Omicron 3 è essenziale tenere pulite le mani e disinfettarle sempre.